il bardo della family di valvola che torna dopo le ferie cristiano andreani ciao caro ciao ragazzi ciao caro benvenuto bentornato come è andata l'estate come è andato agosto non ci siamo sentiti ma finalmente posso dire di aver fatto delle vacanze erano una cosa come succedeva da anni bene bene posso dire che me le meritavo quindi ho fatto un bel carico insomma quindi state pronti che quest'autunno insomma ne ho di buone insomma stasera si è arrivato devo dire molto minaccioso con un oggetto in metallo che cristiano ha portato che adesso mostriamo le telecamere sono accese tutte e tre quindi puoi andare dove preferisci stiamo parlando di un oggetto leggendario fabbricazione italiana la famosissima olivetti lettera 22 e lettera 22 anche il titolo della storia che ci racconti questa è il modello di quella macchina da scrivere è una macchina da scrivere completamente in metallo molto datata ma assolutamente leggendaria perché fece storia fece epoca esatto è un'altra cosa bellissima della lettera 22 adesso ci proviamo è il rumore perché la lettera 22 scusami adesso ci arriviamo ma io sono curiosa quando la martina fa queste domande ricordo il divario di età che ci separa che c'è tra noi e lei ma va benissimo non ci pensiamo andiamo avanti va molto bene allora ragazzi questa storia inizia nel 1868 a ivrea dove ancora ci sono le carrozze a ci tengo a dire che la il racconto di questa sera l'ho ricostruito da un bellissimo articolo di nicolò zuliani che vi consiglio di seguire perché è un giornalista a un ottimo un ottimo modo di scrivere mi piace molto trovate alcuni suoi articoli su the vision.com questo giusto per dare ogni tanto un riferimento e questa storia dicevo inizia a ivrea nel 1868 ed è la storia in realtà di camillo olivetti allora se è famoso nel mondo olivetti adriano che quello che ha costruito le industrie olivetti che si dice sono quelle che hanno ispirato tutte le strutture moderne come apple certo e via dicendo ma dietro adriano c'è un'altra persona fondamentale che è camillo che è il suo babbo ok quindi stasera vi racconto un pochino la la storia che porta da un ivrea fatta ancora di carrozze cavalli e di persone che quando uscivano la sera andavano a vedere il teatro non c'erano altri diciamo sistemi passatempo esatto dove nasce camillo e poi proviamo ad arrivare fino alla lettera 22 ok in mezzo c'è un mondo come sempre anzi come spesso accade nelle nostre storie in mezzo c'è sempre una guerra mondiale se non due a rompere le uova sul paniere ormai sta diventando una costante comunque torniamo torniamo a noi e cosa succede succede che la immaginatevi un ivrea quindi con cavalli e carrozze quindi ancora c'è terra battuta in città c'è polvere c'è insomma è ancora un mondo sì esatto è un po il nostro la nostra visione del far west le persone vanno vanno all'opera vanno al teatro e dice nicola no la lirica è come il calcio cioè l'intrattenimento per le persone che escono la sera non essendoci ancora il discorso del bar e della partita di calcio da vedere con gli amici è la lirica quindi pensate oggi che la lirica è anche no una una nicchia ormai per appassionati una volta invece era un po la il modo per condividere una una passione in questa in quest'ivrea c'è una famiglia ebrea ok dove c'è una una donna benestante sposata con un mercante di di stoffe e qui nasce camillo olivetti che è un ragazzino molto riservato nicola dice che è più che riservato è proprio silenzioso solitario preferisce fare lunghe passeggiate nei boschi invece che giocare con i coetani un po come il bad and powell che vi raccontavo che preferiva stare in mezzo ai boschi piuttosto che tenerlo chiuso tra le mura scolastiche dice nicola è molto dura ma nel 1800 le istituzioni hanno degli ottimi metodi per convincerti ad andare a scuola immagino siano lunghi e durissimi qualcosa del genere fatto sta che camillo si diploma al liceo classico con ottimi voti poi si iscrive al regio museo industriale di torino dove c'era una scuola nel museo pensate questa cosa infatti in un museo c'era una scuola di ingegneria dirlo oggi sembra fantascienza siamo nel 1800 così per la cronaca è vero che torino sapete bene famosa per insomma tecnologicamente parlando sempre stata l'avanguardia molto bene perfetto poi cosa fa si trasferisce a londra per lavoro poi va negli stati uniti per un anno dove conosce un certo edison un altro così che stava sperando due tre cosine le avrebbe fatte insieme tengono delle lezioni all'università di palo alto anche palo alto è un luogo che torna poi nella no nel siamo nel pieno della silicon valley dove è nato tutto molto bene negli ultimi decenni nulla è casuale dopodiché torna in italia quindi con come si direbbe oggi con skill abbondanti direi con un bel bagaglio e abbraccia socialismo si fa eleggere nel consiglio comunale quindi ha un ruolo sociale diciamo all'interno della città siamo nel 1894 e due anni dopo fonde il primo nucleo della ditta olivetti ok e la fa con i mattoni la proprio la fabbrica la fa con i mattoni rossi come le fabbriche che aveva visto negli stati uniti quindi anche un modello estetico che non è molto preciso ma viene importato e lì cosa fa si mette a produrre materiali elettrici e tiene subito corsi di formazione quindi pensando che olivetti è stato un innovatore purtroppo inascoltato nell'industria italiana e vedere che il suo babbo la prima cosa che fece a prendere un'azienda fu di dividerla in due tra quello che produceva e quello che insegnava fa già capire quanto fossero avanti e quanto ancora avremo bisogno di studiare dei modelli che sono nati qui da noi e sposa luisa revel che gli dà sei figli quindi anche un babbo impegnato insomma ok e tra questi il secondo genito si chiama adriano che da subito dimostra una serie di analogie col padre per freisce il bancone da falegname e come il padre è un silenzioso che ama passeggiare per i boschi il titolo è lettera 22 abbiamo lasciato camillo olivetti alla fine dell'ottocento fondare l'azienda di famiglia avere sei figli tra cui il secondo genito adriano che fin da subito dimostra diciamo delle doti e un'attitudine molto simile a quella del padre nel frattempo l'azienda va abbastanza bene quindi camillo come un po il trend dell'epoca prevedeva apre a milano ok quindi da ivrea sposta l'azienda a milano poi a un certo punto dice che non gli piace molto questo sistema di debiti e di relazione con le banche quindi chiude quello che ha aperto a milano e torna ad ivrea anche qui assolutamente contro tendenza ok quindi seguendo un suo un suo mood nel frattempo adriano studia ha otto anni impara precocemente a leggere a scrivere via dicendo e che cosa succede mentre l'azienda olivetti cresce la adriano viene segue un po le tracce del padre no cioè va a studiare va a studiare all'estero nel frattempo il padre si pone dei problemi perché ha visto questo oggetto bellissimo negli stati uniti una remington che è una macchina da scrivere la vuole replicare in italia cioè olivetti vuole fare macchine da scrivere ma il problema che sia remington sia l'underwood che sono i due marchi diciamo americani delle macchine da scrivere a livello di brevetti sono ben difese quindi lui deve riprogettare completamente l'oggetto affinché nessun brevetto lo intralci nella non sia diciamo attaccabile da quel punto di vista ci mette sei anni come dire che per fare le cose fatte per bene ci vuole del tempo certo dopodiché esce la prima la prima macchina che costa all'incirca 450 lire considerate che un operaio prende mille lire ok nei primi del novecento uno stipendio medio quindi mezzo stipendio esatto di un operaio medio non è un oggetto che entra in tutte le case ma da subito il design che camillo vuole per questo oggetto è un design che abbandona un po quell'idea di macchine da scrivere che si vedono un po nei film nere con tutti gli arzigogoli dorati ma è già un oggetto molto minimale perché lui ha intuito che questo oggetto avrà un ruolo anche a livello di design ok è molto importante ed è già assolutamente proiettato nel futuro certo come peraltro molti visionari italiani c'è l'occhio al design io penso per esempio la vespa piaggio sempre stato un pallino no perché spendere soldi in un designer alla fine sono due ruote un motore infatti cosa succede infatti cosa succede perché spendere dei soldi perché sento questo argomento così forte infatti detto questo le sperimentazioni si susseguono nel frattempo adriano fa il suo fa la sua formazione ok nel 1913 la olivetti produce 23 macchine alla settimana perché sono oggetti completamente artigianali ok gli operai sono 20 ma aumentano continuamente tutto va bene ma ovviamente arriva la grande guerra come sempre a scombinare un po tutto per fare proprio dovere di cittadino camillo converte la fabbrica e fa produrre componenti per gli aeroplani del resto si aveva scelta no pare proprio di no questa pausa momentanea però dalla produzione gli permette di studiare alcuni elementi che non lo avevano convinto e alla fine della guerra quando avverrà di nuovo la conversione in fabbrica per macchine da scrivere camillo ha già sintetizzato un nuovo progetto e butta fuori un nuovo modello ok nel frattempo adriano e gli altri fratelli sono stati dispersi in giro per il mondo perché essendo una famiglia ebrea sapete bene che l'aria non era al massimo per per loro quando rientrano in patria adriano continua con il suo ciclo di studi arriva anche lui in azienda con delle skill notevoli e il padre lo mette in catena di montaggio e per tre anni adriano lavora con gli operai ok ma questo cosa fa gli permette di conoscere molto bene la realtà degli operai e anche molto bene le problematiche di produzione tant'è che quando tre anni dopo adriano si presenta al padre con alcuni alcune modifiche che lui vorrebbe porre sia al sistema di lavoro proprio della catena di montaggio sia alla qualificazione del personale in realtà propone al padre un sistema rivoluzionario che farà risparmiare un sacco di milioni in termini di costi di produzione renderà il prodotto migliore ma soprattutto in assoluto anticipo rispetto alle tendenze sindacali costruirà un sistema per gli operai che è assolutamente innovativo le colonie per i bambini vacanze agevolate un sistema sanitario tutelato avendolo vissuto in prima persona come dire non è che essendo il figlio del padrone è diventato subito il super dirigente megagalattico ha cominciato da basso e quindi come dire quella realtà l'ha conosciuta molto da vicino voi sapete che spesso il figlio del padrone nello stereotipo è più bastardo non ho detto proprio così è quello che arriva alle 11 con il ferrarino quello che dà fastidio alle operai ecco lui non era questo molto bene quindi cosa non solo è inserisce le biblioteche pensate prima avete dato il dato che non si legge più questo in una fabbrica di macchine da scrivere mette le biblioteche pensate che a un certo punto adriano si accorge che qualcuno ruba i libri ok oggi se trovi chi ruba in fabbrica probabilmente gli spacchi le gambe oppure se va bene nei carabinieri no c'è una serie di sistemi scappi anche le gambe adesso mi sembra un po' eccessivo vabbè gli spezzerai una falangina adesso ma no ma no ma no ma no vabbè gli rompono un'umbia dai ma c'è la rage room per sfogarsi no lo denunci lo denunci e lo licenzi per il giustificato motivo spaccare le gambe ovviamente è un modo di dire ma ci mancherebbe da noi si usa ma no ma no invece lui si accorge che rubano i libri e che cosa fa capisce che chi ruba è in particolare un operaio che vuol far leggere i libri a casa e quindi invece che punirlo gli aumenta lo stipendio affinché i libri se li possa comprare la stessa cosa succede con un contabile che arrotondava un pochino diciamo sui numeri e portava a casa un pochino di soldi loro lo intercettano e la cifra che lui rubava mensilmente loro gliela mettono nello stipendio cioè pensate che livello di visionarietà in poche parole questa azienda diventa un un modello di riferimento anche perché la leggenda ma in questo caso reale insomma storicamente confruttata è che a un certo punto olivetti che combatte contro i giganti è veramente qui un navide contro volia ok underwood vendeva migliaia e migliaia di pezzi ma a un certo punto olivetti diventa così forte che quando adriano diventa diciamo il capitano d'azienda acquisirà la underwood e aprirà un negozio sulla fifth avenue incredibile che ancora oggi è un modello di ispirazione perché fu affidato ai migliori designer una cosa cercate è bellissimo da tutti i punti di vista e quindi diventerà l'olivetti anche negli stati uniti il riferimento non solo dell'oggetto non solo della funzione ma anche della pratica del lavoro dobbiamo chiudere il cerchio e completare la storia di questa sera grazie al nostro bardo cristiano andreani lettera 22 stiamo parlando della storia di una famiglia incredibile gli olivetti siamo partiti da camillo e ci stavi raccontando negli ultimi minuti la fase diciamo in cui il timone dell'azienda di famiglia passa nelle mani di adriano e le innovazioni che ne seguono esatto sì olivetti viene industrializzata come vi dicevo si arriva ad aprire un negozio nella fifth avenue il times lo definisce il più bel negozio della quinta strada che tradotto ai tempi voleva dire il più bello del mondo occidentale e olivetti dice rappresenta il futuro tutto il resto di improvviso diventa obsoleto tant'è che le altre due aziende smettono di vendere l'underwood viene acquisita da olivetti per la produzione e quindi pensare che un'azienda compra un'altra azienda che era quella che aveva costretto il suo babbo a riprogettare un oggetto completamente per non incorrere nel rischio dei dei brevetti è insomma è una bella favola tutto questo senza fare del male alle persone senza sfruttare senza giocare sporco e via dicendo e questo è purtroppo un modello che l'italia sia un po dimenticato che invece andrebbe insegnato nelle scuole ma anche per un semplicissimo motivo perché adriano era convinto che la bellezza di un oggetto in quel momento storico dovesse addirittura essere più importante rispetto alla sua funzione perché quando vedi che è una cosa gradevole ti fermi un attimo a guardarla e dopodiché dice ok mi interessa pensa quanto era avanti pensa che roba allora pensate che nelle la lettera 22 che è l'ultima di una serie di modelli viene fatta nel 1950 nel 54 vince il compasso d'oro che è un premio dato in italia ma che a livello a valore internazionale per il design e il design è disegno di funzione quindi non è solo la non sono solo le cose belle ma sono le cose belle che funzionano bene infatti si dice che il design più bello è quello che tu non vedi in realtà e nel 1959 acquisisce la underwood nel 1960 in treno perché adriano si spostava in treno spesso e volentieri questo per capire che probabilmente continua una relazione con le persone no come come da ragazzino quando lavorava in catena di montaggio e proprio in treno per una trombosi cerebrale muore quindi muore viaggiando che se volete nella tragicità del momento è comunque poetico è un finale che ci sta quasi bene diciamo in una storia del genere e la macchina da scrivere giusto in due secondi diciamo che sarebbe importante che tutti noi provassimo ogni tanto a infilare di nuovo un foglio su una macchina da scrivere perché la macchina da scrivere ti chiede di processare alcuni pensieri molto bene prima di andare sul foglio perché non avendo il tasto alt cance o il melaci del computer ti richiede un ragionamento più maturo cioè devi arrivare sul foglio con le idee molto chiare perché un errore su un foglio di macchina da scrivere voleva dire prendere il foglio appallotolarlo buttarlo nel bidone e ricominciare fantastico ragazzi lettera 22 grazie a cristiano andrea a voi ragazzi grazie caro è sempre un grande piacere ci troviamo la prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti